in una piccola città dove le vie si intrecciano come i fili di un vecchio arazzo viveva una bambina di nome elisa all'apparenza elisa era come tante altre bambine della sua età curiosa vivace con gli occhi pieni di quella luce che solo l'infanzia sa regalare ma dietro quella luce si celava un'ombra sottile e insidiosa che pochi riuscivano a percepire padre di elisa il signor martini era un uomo di successo ammirato e rispettato nella comunità dirigeva con mano ferma l'azienda di famiglia ereditata da generazioni ma la sua parola era legge sia in ufficio sia soprattutto in casa all'esterno il signor martini sembrava il prototipo del padre devoto provvedeva alla famiglia non mancava mai un evento scolastico e i suoi modi erano sempre impeccabili eppure dietro la facciata di questa perfezione si nascondeva qualcosa di veramente lusco la casa dei martini grande e ben curata era silenziosa troppo silenziosa per essere il focolare di una bambina elisa si svegliava ogni mattina al suono della vecchia sveglia di famiglia un oggetto d'argento che brillava sotto la prima luce del sole filtrata dalla finestra la sua stanza era ordinata troppo forse con ogni giocattolo e libro al proprio posto come se raramente fossero usati per giocare si vestiva in silenzio scendeva le scale e trovava la colazione già pronta sul tavolo della cucina il signor martini era già al lavoro come sempre buongiorno elisa salutava la governante la signora rossi con un sorriso che elisa ricambiava debolmente buongiorno signora rossi rispondeva elisa sedendosi e mangiando in silenzio la giornata scolastica era l'unico momento in cui elisa si sentiva un po più libera era una studentessa brillante sempre attenta e partecipe ma riservata con i compagni la sua timidezza era spesso interpretata come distacco rendendola un'isola in mezzo a un mare di voci e risate l'arrivo della nuova maestra la signora bianchi segnò una svolta però era una donna giovane con occhi vivaci e un sorriso che sembrava illuminare la stanza notò subito elisa la sua intelligenza il muro che sembrava aver costruito intorno a sé elisa potresti venire qui un momento chiese un giorno dopo lezione elisa si avvicinò incerta sì signora bianchi volevo solo dirti che ho letto il tuo tema è stato molto toccante hai un dono speciale con le parole disse la maestra sorridendo veramente grazie rispose elisa con un raro sorriso e come va a casa tutto bene chiese la signora bianchi osservando attentamente la reazione di elisa elisa abbassò lo sguardo sì tutto bene mentì ma il tremore nella sua voce disse altro la signora bianchi non insistette ma da quel momento tenne elisa sotto una speciale attenzione osservava il modo in cui evitava di parlare della sua vita personale come si isolava durante la ricreazione la tristezza nei suoi occhi quando pensava di non essere osservata a casa le cose non miglioravano una sera mentre elisa stava facendo i compiti in cucina il signor martini entrò il suo solito saluto autoritario risuonò in tutta la stanza elisa spero che tu stia studiando ricordati che il successo non arriva senza sacrificio disse senza nemmeno guardarla sì papà rispose elisa senza sollevare lo sguardo dai libri il signor martini scrutò i fogli sparsi sul tavolo spero che queste non siano solo scienze umane ricorda le vere opportunità stanno nelle materie scientifiche elisa sentì un nodo allo stomaco amava scrivere sognava di diventare scrittrice ma sapeva che suo padre disprezzava queste ambizioni ho capito papà disse nascondendo il suo disappunto le giornate passavano tra la scuola dove si rifugiavano i suoi studi e una casa che sentiva sempre meno come tale la signora bianchi nel frattempo iniziava a pianificare come avvicinarsi ulteriormente a elisa intuendo che dietro il silenzio della bambina si nascondeva una richiesta di aiuto non espressa nei giorni seguenti la signora bianchi osservò elisa con ancora maggiore attenzione cercando segnali che confermassero i suoi sospetti notò piccole cose elisa si sobbalzava al minimo tocco evitava lo sguardo diretto quando si parlava di famiglia e la sua voce si faceva sempre più flebile e incerta quando si avvicinava l'ora di tornare a casa come se non ci volesse tornare a casa un pomeriggio mentre gli studenti uscivano per la ricreazione la signora bianchi chiamò elisa da parte elisa hai mai pensato a partecipare al club di scrittura della scuola penso che potresti davvero brillare disse cercando di instaurare un dialogo che potesse aprire a temi più personali elisa sembrò sorpresa poi interessata mi piacerebbe ma non so se mio padre sarebbe d'accordo lui preferisce che mi concentri su altre materie capisco dispose la signora bianchi notando l'esitazione ma sai elisa a volte dobbiamo seguire ciò che ci rende felici ciò che fa brillare il nostro cuore se vuoi posso parlare con tuo padre forse posso convincerlo elisa guardò la maestra con una miscela di speranza e paura non so forse meglio di no la maestra capì che c'era più di una semplice preoccupazione accademica dietro quelle parole elisa se mai volessi parlare di qualcosa qualsiasi cosa ok io sono qui elisa annui un filo di gratitudine c'era nei suoi occhi prima di correre fuori con gli altri bambini seppur con esitazione la signora bianchi decise che era il momento di agire dopo la scuola prese coraggio e si avvicinò al signor martini durante uno dei rari momenti in cui veniva a prendere elisa signor martini possa avere un momento sono la maestra di elisa la signora bianchi iniziò con un tono professionale ma amichevole il signor martini la scrutò con uno sguardo che la stava misurando quasi la valutava certo di cosa si tratta volevo parlare delle straordinarie capacità di scrittura di elisa credo che un po di incoraggiamento potrebbe davvero aiutarla a sviluppare il suo movimento disse la signora bianchi osservando attentamente la reazione dell'uomo il signor martini sorrise un sorriso che non raggiungeva però gli occhi apprezzo il suo interesse ma preferisco che elisa si concentri sulle sue materie scolastiche principali la scrittura è un passatempo non una carriera la maestra sentì un freddo nel cuore quella risposta confermava i suoi timori capisco la sua preoccupazione per il futuro di elisa è davvero grande ma credo che incoraggiare i suoi interessi possa contribuire al suo benessere emotivo e alla sua crescita personale signor martini fissò la maestra per un lungo momento grazie del consiglio ripeto però signora bianchi non posso fare tanto considererò le sue parole con un cenno prese elisa per mano e se ne andarono quella sera la signora bianchi fece delle ricerche su come poter aiutare al meglio elisa era determinata a non lasciarla sola nei giorni successivi accadde l'evento che avrebbe cambiato tutto durante un compito in classe elisa scrisse una storia che pur essendo una finzione conteneva elementi troppo realistici di tristezza e isolamento elementi anche inquietanti che riguardavano una protagonista femminile della sua stessa età una protagonista che subiva delle brutte cose la signora bianchi leggendo tra le righe capì che era arrivato il momento di intervenire a casa di elisa stava succedendo qualcosa la storia scritta da elisa era un racconto immaginario di una ragazza anzi di una bambina intrappolata in una casa oscura sorvegliata da un uomo molto molto cattivo che pretendeva obbedienza e perfezione altrimenti le faceva del male quest'uomo la maestra leggendo quelle parole sentì un peso al cuore era evidente che elisa stava proiettando la sua realtà attraverso la metafora della storia il giorno seguente la signora bianchi chiamò elisa nel suo ufficio elisa ho letto la tua storia iniziò cercando di mantenere un tono neutro è molto toccante vuoi parlarmi di cosa ti ha ispirato elisa guardò il pavimento giocando nervosamente con le mani è solo una storia signora bianchi non significa niente elisa disse dolcemente la maestra ogni storia nasce da un sentimento un desiderio una speranza o una paura se vuoi possiamo parlare di ciò che ti preoccupa dopo un lungo silenzio elisa alzò gli occhi lucidi di lacrime non versate a volte a volte vorrei solo scappare come la protagonista della mia storia ma non c'è nessun posto dove andare le parole di elisa furono il catalizzatore furono l'inizio di tutto la signora bianchi capì che non poteva più aspettare quella sera stessa prese una decisione che avrebbe potuto cambiare la vita di entrambe contattò i servizi sociali locali esprimendo le sue preoccupazioni e chiedendo un intervento discreto ma immediato giorni seguenti furono tesi il signor martini fu informato dell'indagine in corso e come previsto reagì con indignazione negando qualsiasi accusa e presentandosi come la vittima di un malinteso tuttavia la professionalità e la determinazione dei servizi sociali uniti alla testimonianza di elisa resero evidente che la situazione in casa martini non era quella ideale per il benessere di una bambina la svolta avvenne quando durante un incontro organizzato dai servizi sociali elisa trovò il coraggio di parlare raccontò quei lunghi pomeriggi passati in solitudine delle aspettative schiaccianti e del freddo distacco del padre raccontò della sua paura di non essere mai all'altezza del desiderio di amore e accettazione e infine fece vedere dei lividi dei terribili lividi sul suo corpo la signora bianchi fu al suo fianco offrendole sostegno e incoraggiamento la testimonianza di elisa unita alle osservazioni della maestra e ad alcune incongruenze emerse durante l'indagine portarono a una decisione drastica ma necessaria elisa fu temporaneamente allontanata dalla casa paterna e affidata a una famiglia affidataria in attesa di ulteriori valutazioni nei mesi successivi la signora bianchi divenne un punto di riferimento costante per elisa visitandola spesso e assicurandosi che stesse bene la loro relazione si approfondì trasformandosi in un legame quasi materno la maestra si impegnò anche in una battaglia legale decisa a ottenere l'affidamento di elisa il processo fu lungo e faticoso con il signor martini che si opponeva fermamente sostenendo di essere stato frainteso e calugnato tuttavia la determinazione della signora bianchi supportata da prove concrete dal miglioramento evidente del benessere di elisa che sorrideva molto di più lontano dalla famiglia fece la differenza dopo mesi di udienze e valutazioni il tribunale decise a favore della signora bianchi concedendole l'affidamento di elisa fu un momento di grande emozione per entrambe un passo verso una nuova vita insieme intanto il signor martini era nei guai aveva perso moltissimi soldi in azienda e clienti importanti a causa delle notizie sui giornali e probabilmente la sua azienda avrebbe fallito elisa e la signora bianchi iniziarono il loro nuovo capitolo con gioia e speranza la casa della maestra divenne un rifugio sicuro per elisa un luogo dove poteva crescere imparare soprattutto essere se stessa senza paura la storia di elisa della signora bianchi è un promemoria del potere dell'intuizione della compassione dell'amore incondizionato insieme hanno superato le ombre del passato aprendo la strada a un futuro luminoso pieno di possibilità e nuove avventure a un futuro luminoso un luogo dove poteva crescere